Direttore, da questa sera penso che dovrete mettere delle sanzioni a chi guarderà la classifica. No, no, assolutamente. Noi profilo bassissimo, come sempre, lavoriamo, guardiamo la classifica giornata dopo giornata, quindi non ci entusiasmiamo più di tanto, sappiamo che il lavoro paga, quindi andiamo avanti così, soltanto guardando settimana dopo settimana senza pensare oltre. Quasi 7.000 persone, la città si sta rinnamorando di questa squadra, di questi colori. Era ora, no? Finalmente, che cosa aspettavamo? Adesso abbiamo un obiettivo comune da raggiungere, lo deve raggiungere la città, noi ci stiamo lavorando, stiamo lavorando duro, è quello di portare 20.000 persone allo stadio per Messina Catania. So che qualcuno mi prende per pazzo, ma ora iniziamo un countdown sul nostro sito, su tutti i social e quotidianamente andremo ad informare la gente sul risultato che stiamo per ottenere. Tutti insieme dobbiamo fare, come hanno fatto a Salerno l'anno scorso, e una scommessa che dobbiamo vincere, 20.000 persone per Messina Catania. Proprio per il derby avrete altre iniziative per stuzzicare ancora i tifosi un po' più pigri? Penso che quello della famiglia, cioè che uno compra un biglietto e entra allo stadio a vedere la partita, tutta la famiglia, quello già è tanta roba. Poi naturalmente ci sono delle altre iniziative in cantiere che nella prossima settimana, nel corso di una conferenza stampa, presenteremo. Però diciamo che non tralasceremo nulla, perché il 15 novembre sia una grande giornata di festa per la città di Messina, per tutti gli sportivi e soprattutto per i tifosi. Questa sera quanti anni ha perso? No, no, niente, tranquillo, tutto a posto, tutto a posto. Niente, tutto felicissimo così, va bene. Grazie a tutti.